Il complesso di inferiorità. Ma cos' che l'è? Bene, iniziamo. Allora, il complesso di inferiorità è una cosa che comunque nasce ancora nella famiglia. Questo perché, cioè, perché la famiglia è così importante nella crescita di un individuo e quello che pensa di se stesso in rapporto agli altri e in rapporto con se stesso? È molto semplice, perché le prime persone con le quali abbiamo un'interazione sociale, le prime persone che ci insegnano ad amarci o non amarci in base alle azioni che facciamo, in base a come ci percepiamo, sono i nostri genitori e da lì non si scappa in particolar modo la mamma. Cioè, pensateci, non è un caso che quando un bambino si ritrova da solo o abbandonato, chi è la persona che gli viene in mente da chiamare subito? La mamma. Raramente il papà. Quando uno è da solo è la mamma. Quindi l'interazione con la mamma è particolarmente molto più importante di quella del padre. Cari padri, non sto dicendo che non servite a nulla e cose simili. Eh sì, che non si dica che sono pro-feminista e cose simili. No, non è questo. Stiamo parlando di una cosa che è un dato di fatto. Lasciate un bambino da solo e vedrete qual è il genitore che vi verrà in mente da chiamare. La madre. Perciò, se un bambino non si sente all'altezza delle aspettative di un suo genitore, che cosa va a creare in lui? Si sente inadeguato. Si sente inferiore. E in particolar modo, se il genitore, la madre in questo caso, si dilette a fare paragoni. Hai visto il figlio della Cristina? Che bello! Guarda che bei capelli che hai! Oh, aspetta che gli tocco un attimo. Il bambino vede che sua madre va a toccare i capelli di quell'altro, ma i suoi non glieli tocca mai. Che cosa pensate che si innesca nella testa di un bambino del genere? Questa cosa, vabbè, può capitare una volta, ma se capita in maniera ripetuta, sempre con un bambino magari che ha i capelli biondi, quindi la mamma va sempre ad accarezzare i bambini che hanno i capelli biondi, io ho i capelli neri, non me li accarezza mai. Che cosa si innesca? Complesso di inferiorità. Quindi comincerò a sentirmi inferiore a qualsiasi persona nella mia vita incontrerò con i capelli biondi. Ma potrebbe essere qualcos'altro. Il figlio della Carla corre così bene, è un atleta, guarda che belle gambe che ha. No, veramente, sembra un stallone. E magari siete un ragazzo che ha dieci anni? Dai, facciamo sette. Per rimanere un attimo nella zona sensibile. Sensibile perché è lì che si formano i pensieri che poi andranno a plasmare una persona per il resto della sua vita, ok? Quindi, vostra mamma ama i piedi di quell'altro. Guardate i vostri piedi e non vi fa mai dei complimenti su quello. Vedrete qualcuno con i piedi come quelli che piace a vostra madre, vi sentirete inferiori. Perché a voi non è mai stato detto, Mio caro figlio, ti amo così come sei in tutto e per tutto. Ma sapete quanto è importante dire questa frase? Cioè, dirla anche una volta a vostro figlio. Anzi, questa frase va ripetuta anche cento volte, ma proprio per caricare le persone come si deve, ok? Se dite questa cosa a vostro figlio, che vi vede come una dea, vi vede come la persona per la quale andrebbe in cima alla montagna più alta che esiste, perché questo è il punto, voi madri siete delle dee, siete come il pianeta Terra sta ai suoi abitanti, ovvero fondamentali per l'esistenza, rifornite il nutrimento, rifornite un sostegno sul quale mettersi quando uno è stanco. Quando uno è stanco dove si mette? Si siede per Terra, ok? Terra che è il pianeta, ok? In questo caso la mamma. Tant'è che quando un bambino è stanco, dove è che gli piace mettere la testa? Sulle gambe della mamma. Perché è un posto dolce, è un posto sicuro, ok? Quindi, se già vedete che vostro figlio vi vede in questa maniera, immaginate il peso che ha su di lui, cioè che gli dite ancora peggio quando fate dei paragoni in cui non lo mettete mai in luce rispetto agli altri. È devastante. E questo va a creare appunto dei complessi di inferiorità. E adesso andiamo nella parte divertente. Andiamo a vedere la definizione nel dizionario, così andiamo a spezzare nel modo più semplice possibile che cosa si intende per complesso di inferiorità. Andiamo a vedere qui condizione psicologica. E qua iniziamo bene. Il lessico medico italiano, tanto per rimanere in casa fra di noi, dice che il complesso di inferiorità è una condizione psicologica per la quale il soggetto si ritiene incapace di svolgere una determinata azione o comunque di attuarla in maniera soddisfacente, ovvero è persuaso che gli altri lo ritengano tale. Quindi qua è una definizione tecnica che mette più l'accento sull'azione, perché infatti si parla di svolgere una determinata azione o attuarla. Prima vi ho fatto una definizione che è più a livello percettivo, quindi su come una persona si percepisce. Però va benissimo, va benissimo, perché adesso andiamo ad analizzare. La parola condizione. Cos'è una condizione? Prendo l'esempio. Voglio comprare un trattore. La condizione per comprare un trattore da Giorgio è che gli devo dare 10.000 euro, ok? Quindi prima che io gli dia quei 10.000 euro, non ci sono le condizioni perché io prenda quel trattore. Ottimo. Adesso, perché qualcuno abbia il complesso di inferiorità, ci devono essere delle condizioni. E le condizioni quali sono? Adesso andiamo a vedere invece la definizione del complesso di inferiorità nel dizionario di Oxford. Eh sì ragazzi, sorpresa! Mi sono aggiornato prendendo anche roba dagli anglosassoni. Perché? Perché loro sono molto più avanti di noi su queste cose. Quindi per questo che molte delle nozioni che io condivido qua, in realtà ve lo dico chiaramente, sono prese per la maggioranza nel mondo anglosassone. E io quindi ve le porto qua e ve le metto a disposizione. Per questo che magari alcune cose, come le descrivo qua, quando andrete su un altro canale, magari di un psicologo italiano, sembreranno molto diverse da quello che dico. Perché appunto le mie fonti sono anglosassoni. Quindi abbiamo detto condizione psicologica. E adesso andiamo a vedere nel dizionario di Oxford. Quindi qua invece dicono, quindi salterò un po' le descrizioni, si parla di idee che nascono a causa di paure e risentimenti. Quindi sono idee che nascono da emozioni. Vi ricordate la puntata in cui parlo delle emozioni? Il link è qua. Pertanto, le condizioni che fanno sì che uno deve avere il complesso di inferiorità, sono paura e risentimento, quindi delle emozioni. Torniamo nel dizionario italiano. Qua vediamo la descrizione di emozione. Impressione viva di intensità rilevante che, in genere, si manifesta con modificazioni fisiologiche, comportamentali ed espressive. Essa deriva da situazioni che possono essere piacevoli o spiacevoli. Quindi qua si parla di impressioni. Le emozioni avvengono per causa di impressioni. Quindi dobbiamo capire che il complesso di inferiorità è dovuto a condizioni emozionali che fanno sì che uno si mette a credere che non è in grado di fare questo o quell'altro. Quindi che cosa vuol dire questo? Che i complessi che pensi di avere non sono una cosa con la quale sei nato. Quell'idea che l'idea che hai di te è una cosa che ti è stata messa in testa. Messa in testa per via di emozioni che sono paura e risentimento. E questo si ricollega con quello che ho detto prima riguardo alla madre che fa i complimenti a qualcun altro. Prendo l'esempio dei complimenti perché si potrebbe espandere con tante altre cose in maniera ancora più approfondita. Però per un discorso di semplificazione prendo questo esempio qua della madre che fa i paragoni. Quindi se la madre non facesse i paragoni ad altri e invece ti mettesse più in risalto tu che magari hai dei complessi di inferiorità questi complessi non li avresti anche se magari sei nato con un handicap. Non so, ti manca una mano, ti manca un dito o qualcosa, ok? Non è un problema, non è un problema, te lo ripeto. Non è un problema. È nella tua testa e l'educazione che hai ricevuto che è un problema perché ti è stata inculcata la paura la paura di vederti e accettarti per così come sei. Io qua ti dico ti accetto così come sei perché non me ne frega nulla. A me non frega nulla, capito? Quindi se uno è i complessi di inferiorità li può cambiare, li può modificare cambiando le idee che ha di se stesso. E ancora una volta vi rimando a un altro video che ho fatto sul self-concept. Lì potrete vedere come cambiare la percezione che avete di voi stessi. Perché il discorso è questo. Le idee che uno ha di se stesso o del mondo in generale sono immagazzinate all'interno dei nostri neuroni. Nei nostri neuroni ci sono delle informazioni che nascono per vari motivi che non andrò a spiegarvi perché è un'altra cosa complicatissima. Rimaniamo nella semplicità. Quindi se tu mantieni nella tua testa questi neuroni nutrendoli sempre e sempre e quindi oh sono brutto, oh madonna mia rispetto a cui non sarò mai come con l'altro. Tu stai alimentando quei neuroni, ok? Li alimenti in continuazione e quindi questi qua si rafforzano perché sono come dei muscoli. Più li nutri e più si rafforzano. E dopo diventa difficile non dar loro un certo peso. Come riesco a contrastare questa cosa? Creando dei nuovi neuroni ai quali darò prevalenza rispetto a questi qua perché il punto è questo. Ogni informazione che noi immagazziniamo nella nostra testa rimane, non se ne va. Il cervello umano è fatto in questa maniera. È un ricettore che riceve in continuazione ma non può scartare informazioni. L'unica cosa che può fare è dare meno importanza alle informazioni che ha già. Come fa questo? creando nuovi neuroni. Quindi ti puoi mettere a fare, non so, nuove attività, attività che ti fanno stare bene, attività che ti danno un self-concept di te stesso che ti piace. Questo è quello che uno può fare. Bene, questo è tutto. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Lasciate i commenti se pensate che ho dimenticato qualcosa o che volete magari che faccia un altro video che approfondisca questa tematica. E questo è tutto. Grazie a tutti.